buongiorno ma che figo sto filtro wow mi fa gli occhi ancora più grandi allora dopo che ho passato tre ore a sistemare l'acqua allunque e devo dire che bisogna una persona quando devo svuotare le valigie poi due giorni un po' l'hai comprato tu? no e perché ce ne sono due? no veramente ce ne sono tre hai capito? vabbè dice così perché non è capace di fare le battute comunque niente ho sistemato lavatrici fatte quasi tutte e raga non so voi come fate quando dovete fare il cambio armadio ma io vorrei morire detto ciò io sto cercando una figura tipo segretaria segretario che mi aiuti in varie cose deve essere di Milano saper guidare e usare la macchina ragazze guardate qui con chi sono eccole allora oggi lei che è bravissima a fare le mani e tutti questi lavori andiamo a sistemare le mie manine che ho 20 giorni che non faccio e non vi dico il colore sarà una sorpresa a dopo ragazzi smettete di gossipare un attimo ci siamo ci siamo eccoli ce l'abbiamo fatta era da mesi che dicevamo ci vediamo ci vediamo ce l'abbiamo fatta guardate la bellezza di questa donna 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 guardate la bellezza di questa donna